Ciao ragazzi, mi sto preparando adesso per andare al Robocap Italia, quindi alla competizione di robotica italiana che quest'anno si svolge a Bari. Sto preparando, come potete vedere, la valigia, le ultime cose, che domani mattina, quando i preparativi sono pronti, si parte verso le 6. Prendiamo il bus, quindi saranno diverse ore, circa 10-12 ore parecchio lunghe, per andare a Bari, quindi dal Trentino, perché noi siamo di Trento. Ci vorrà un bel po' e poi andremo a vedere come andranno le competizioni. Io gareggio nella competizione di Rescue Line, quindi un robot che deve seguire la linea e fare diverse cose. Vediamo se con la post-produzione riesco a trovare i video dell'anno scorso o di due anni fa per riuscire a metterli online. L'anno scorso siamo arrivati primi a livello italiano e verso metaclassifica a livello mondiale. Vediamo quest'anno come va, perché abbiamo sviluppato un nuovo robot che invece che andare con i vari sensori, come gli scorsi anni, va tramite una fotocamera. Quindi tramite il riconoscimento dell'immagine va ad elaborarla e fa una serie di cose parecchio fighe. Purtroppo non è ancora pronto, quindi dobbiamo vedere adesso in pullman di finire la programmazione e vedere un paio di altre cose. E semmai andiamo a gareggiare con il robot dell'anno scorso, che però non ci abbiamo più lavorato da un anno e bisogna vedere com'è che va. Vabbè, ciao! A parte una search e un fade. Ciao! L'angry programmer! L'angry programmer! Ho poco angry stavolta. Perché è stanco, altrimenti? No, ma sono andato dal 10 e un quarto. Prima di tutti voi! No! La bia fessa è più un tipo a più. La bia fessa è più un tipo a più. La bia fessa è più un tipo a più. La bia fessa è più un tipo a più. La bia fessa è più un tipo a più. La bia fessa è più un tipo a più. La bia fessa è più un tipo a più. Siamo in Molise. No, ma è visita o non esiste. Non è possibile, però non esiste. Sì, non esistiamo. E poi, scusa, che te lo dice che quando ne sbagliamo o non ne sbagliamo, in un diverso, parallelo dove un verbotro non esiste. No, è migratante. Non c'è un verbo non esiste. Esatto. Per un rogni? Niente, eccetera. I prossimi 30 minuti, un kg di un non esiste. Adesso scompariamo. No, no, siamo già scomparse. Vedo una luna attorno alla gente. Ma si stanno facendo il selfie questi? Però mai noi selfie? No, non ci stiamo mai. Io sempre, sempre nella faccia da poco. Oltre al tunnel quantistica abbiamo anche selfie ricorsi adesso. Cazzo non sai che non esistono. Attraversiamo l'autostrada? L'ho fatto una volta in Albania. Attraversiamo l'autostrada? Ma guarda, io questo non credo. E devo salutare tutti quelli che ci guardano? Beh, per Overvolt. Ovviamente. Altrimenti Marco mi picchia se non faccio video. E com'è che ti chiami overvoltisti o overvoltiani? Ti salutiamo tutti lo stessi. Overvoltetti. Sì. In un paese meraviglioso. Tracciare meraviglioso e sentirla con non esiste. Ma che non esiste. No, traccia una linea a caso in mezzo al mare. Scopri. Ciao Gota. Ciao Gota. E' vero che i grecker sostituiscono. Grazie. Sì assolutamente. E il grecker confluenta. Entriamo. Abbiamo qui. Ciao. Zamboni Brugnara. Ciao. Ciao. Un bellissimo spoggiolo vista Pullman. Vista Quasimare. Ecco Cottardini. Attaccata svegli che lavoriamo. Sì dopo lavoriamo. Aspetta. No no dopo. Siamo appena arrivati dopo. Rega. Già si vede. Guarda lo che parte l'angry programmer. Esatto. No, l'angry programmer. Overvolt. Lancia un appello. Quest'uomo è una scalza fatica. Sì è vero. Solo quando deve fare i video di over4 con gli iscritti. Oh ma figurati. Io faccio i video. Poi li edita Marco. Ah il bagno c'è anche. C'è il bagno. Dov'è la luce? C'è il bagno. Dov'è la luce? Tanto ci sono io sopra che sono un peso più ma no? Allora va sopra che è più leggero. Perché sennò quello sotto rischia di morire se uno è due. Ah! bu ghi di buono, proprioPer i veczinho capitolo! No, per te è finito! YO morgo subito! Oh no, no, no non è do Divino pubblicoISTágnere! Allora va girare. optionale e via la campagna con eyebrows! So many nights I'd sneak around And drink all night All the days I did They just were right And all the time that I I'd stay home and cry I could never say I was wrong But I wasn't wrong I won't cry tonight Oh no, I won't cry tonight Oh no, not tonight Oh no, not tonight Oh no, not tonight I'm not the man that I once was Turned around, saw the light Never to return Oh no Oh no My heart was back And you knew my name But I'm not the same I'm not the same Oh no The same Oh no I don't apologize I don't apologize Cause the life I let Let do you And I realized And I realized With these lines With these lines This life we live Is hard to find Oh no Oh no Away Cause now I guess I should I guess I should find a way Of living without you Oh no Oh no Oh baby, baby Don't stay out all night long Don't break me, break me Cause now I'm thinking about What's she doing Without me Oh no What's she doing without me Oh no 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 Cause all my life I may try I may try To find A soul Like mine Like mine But a little bit too But a little bit too Oh no 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 Grazie a tutti 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 Un saluto e al prossimo video di Overworld Ciao